Cos'è il picking e cos'è lo stripping? Nel mondo del caffè questi due termini identificano in realtà un concetto di raccolta delle ciliegie in piantagione. Nel picking la raccolta avviene manualmente, selezionando con le mani una a una le ciliegie più mature, proprio per dare un prodotto di maggiore qualità. Nello stripping invece, il secondo metodo, il ramo viene strappato completamente senza selezionare. È un sistema molto più veloce evidentemente di raccogliere ciliegie di caffè, ma estremamente poco selettivo. Questo quindi implica l'obbligo in un secondo momento, in centro di lavorazione, della selezione, un'ulteriore selezione, dei grani più maturi dai grani non maturi. Questo chiaramente si può fare come non si può fare nella seconda parte. Se si fa si avrà comunque un prodotto straordinario, ma anche un prodotto di scarto di bassa qualità. Se non si fa si avrà un prodotto mediocre, che normalmente viene definito commodity o commerciale.